Le vedute romane non solo di Luigi Rossini mostra a chiasso, tra disegni preparatori, matrice e stampe, sono 152 le opere del maestro dell'arte incisoria, attivo nella prima metà dell'Ottocento, ospitate al Max Museo. Il viaggio segreto, il titolo di questo percorso espositivo, realizzato con pezzi di collezioni pubbliche private e dedicato a quello che è considerato l'ultimo grande illustratore delle meraviglie di Roma prima dell'avvento della fotografia. Aperto al pubblico fino al 4 maggio.